se adesso io dico delle cose prima di tutto vi dico che sono felice per il tempo che fa perché le previsioni erano disastrose, pioggia, l'idea di Dio, ogni tanto lei si è rovesciato tutto, qualcuno l'associava adesso devo stare attento a non coprirmi, dovrò stare sempre nel centro perché altrimenti ci sono, forse devo scendere, ecco, stavo guardando dove taglio, c'è della gente di qua, di là, si, riescono a vederli, va bene, voi mi ascoltate bene? Sì! Non ci sono rimbombi intorni, vediamo. ahahah, ahahah, how do they believe, only they phareman, voglio guardate, you qui risultate male? Perfetto, d'accordo? Ci vediamo.